Amiamo le tue imitazioni, quindi direi subito di iniziare. Come stai Carmen? Sì certo, devo dire prima di cominciare però che vorrei fare un saluto a Enzo Paolo e a Maria, un bacio, io sto benissimo, sono molto emozionato di essere qui insieme a voi due e davvero vi ringrazio per avermi invitato in questo spazio molto bello. E' da poter condividere con voi. Io le lacrime, ma è perché oggi ho rivisto tutti i suoi video, quindi sono ancora riduce dal video. Guarda che cosa fa! Basta! Bravissimo! Sto male. A rientrarmi al personaggio. No aspetta, ma Carmen, cosa ne pensi dell'eliminazione di Clarissa? Io sinceramente sono in estrema difficoltà, perché comunque Clarissa mi piaceva in quanto era molto piccola e aveva bisogno di parlare un po' più di sé per farsi conoscere. Inoltre mi è dispiaciuto moltissimo della reazione che hanno avuto le sue sorelle. Poverina Lulu, credo che non sia stata capita molto da alcuni della casa che hanno un po' banalizzato la sua reazione, così anche Jessica che si è poi confrontata con me. Carmen e ho tentato di tranquillizzarlo un pochino. Comunque su Twitter dicono da Xananas, quest'account. No vabbè, Lorenzo mi ha fatto ridere davvero, non l'avrei mai detto. Ma ragazzi, smettete di non fidarvi dei TikToker. Io vi giuro, dei talenti migliori li ho scovati su TikTok. Grazie Gaia, faccio il micato a favore mio, faccio il micato. Faccio un altro? Posso, autori? Ma invece, se io ti dicessi, Soleil, ascoltami. Assolutamente, Soleil è secondo me una delle donne assolutamente più forti di questa casa, una dei concorrenti migliori di questa edizione. sta portando delle dinamiche assolutamente strong, ok? Oh my god, io la adoro. Ma senti un po', Soleil, Alex è davvero innamorato di te? O lo fa? Fa la clip? In questo momento sto vedendo da parte di Alex un teatrino, un cosiddetto, tutto questo drama che assolutamente non mi caratterizza come persona, come donna che sono entrata qui dentro, assolutamente non per stare all'interno dei triangoli. infatti abbiamo anche litigato in camera da letto l'altro pomeriggio, proprio perché lui ha delle mani di protagonismo, oh my god, veramente stancanti e assolutamente non ne posso più. Ma è stato difficile essere da, concordo. Ma quindi com'è andato il primo litigio con Alex, Soleil? Non me lo aspettavo minimamente, ma vi giuro che sono esplosa, proprio un boom assurdo perché non ne potevo più. Sovrastava le voci, ha rovinato un momento che poteva essere di tutti noi dell'all'interno della casa, soltanto per un comunicato del grande fratello. e io assolutamente sono stanca, anche se comunque ieri sera ci siamo riavvicinati perché abbiamo ballato sotto la pioggia insieme e poi ci siamo abbracciati mentre dormivamo. Ma tu mi sai rifare quello, sono dell'America del nord, io sono dell'America del sud e se chiedere, saprò anche spagnola. Delia, amore, stai attenta perché io sono dell'America del sud e io sono dell'America del nord e se chiedere, stiamo in spagnolo.